E ora, fattene! La scienza mi chiama e il tuo affrore naturale mi distrae con la sua intensità. Tutti i Crimson Rider sul ponte. Ce l'hai fatta, Killer. Una lezione che la Maliwan non dimenticherà tanto facilmente. Vedremo che storia si inventeranno adesso i Calypso. Abbiamo l'occasione di colpire e dobbiamo approfittarne. Dov'è la cripta, Rhys? Vorrei dire una cosa prima. Mi avete salvato la pelle. E con la mia, quella di tutti i dipendenti Atlas. E la pelle è importante! Basta parlare di pelle. La cripta è nascosta sotto la stazione Abolion. E nessuno l'ha mai scoperta. Asfaltata completamente dalla vecchia gestione Atlas. L'ho trovata quando sono arrivato, ma non la volevo aprire in mezzo a una zona abitata. È sempre un casino aprire una cripta. La lascio volentieri a voi. Asso e chiudo. Avremo poco tempo. Ci servirà un veicolo per raggiungerla dall'alto. Ricevuto, ce ne occupiamo io il cacciatore. Quel posto è mio. Stiamo per aprire una cripta, Maya. Secondo te me la perdo. So badare a me stessa. Sirena o no. Lilith, non sappiamo cosa ci aspetti. Potrebbe essere pericoloso. Mi hai chiesto di tornare per un motivo. Usa le armi che hai a disposizione, comandante. Ok. È tutta tua, allora. La prossima la apriremo insieme, quando avrai di nuovo le tue ali. Va bene. Bene, Maya! Prepariamoci! È la mia prima cripta! Cosa mi porto? Niente. Tu resti con Lilith. Veramente? Mi stai addestrando per questo, no? Sono pronta, Maya! Non ancora. Ci vediamo sulla superficie, cacciatore. Ava, mi serve una mano qui sul ponte. Vuoi occuparti delle comunicazioni? Sì, no. Tutto a posto. Bene, Killer. La stazione Apollyon è l'ultima fermata sulla linea centrale. Prendete l'autostrada principale e dirigetevi fuori città. Scorie! Vuoi davvero aprire la cripta? Attenzione! Alcuni sopravvissuti della Maliwan hanno fortificato la rampa d'accesso. Per passare dovrai sbatterli fuori. Ti fio delle truppe, Atlas! Mi leggi nel pensiero, Riss. Gacciatore, libera la rampa e procedi. Non si arrendono neanche dopo la morte del loro leader. Buon'ora lì con la sua testa pide. Sperminatore è il mio secondo nome. È stato un gioco da ragazzi. Atlas ha trionfato. Gacciatore, vieni con me. Ci so ancora fare! Cerca la tua strada. Io la spianerò per te. Una bella spada fa sempre comodo. Come va, coglionazzi? Quanto tempo, vero? Piccolo riassunto. Katagawa ha fallito di brutto, ma questo lo sapevate già. Troi si lamenta che non abbiamo ancora aperto la cripta. E io non riesco a farmi una scopata come si deve perché muoiono tutti prosciugati prima ancora di cominciare. E niente, va così. Oh, ma vedo che siete occupati. Scusate, ci sentiamo presto, sì? Allora, Fenomeno, andiamo ad aprire quella cripta? Certo! Cosa sono venuto a fare fin qui? Ehi, Ellie! Vorremmo arrivarci interi a quella cripta. Idee? Non vedevo l'ora che dicessi qualcosa del genere, tesoro! Vi presento il progetto Doppia Coppa! Oh sì, Ellie. Non cambiare mai. Guida tu. Io dovrò usare le mani. Ci serve della musica. Chissà cosa ci ha lasciato Ellie. Un classico. Quanta fresta, super fan! Avete un appuntamento? Non è un problema se trasmetto la vostra posizione a tutti i pazzi assassini del pianeta, vero? Sicuri, sicuri? Bene? Tanto l'avrei fatto lo stesso. Non starla a sentire. Ce la faremo. Proprio come su Atenas. Arrivano... All'attacco! Avvicinati e gli spazzerò via! E protetta! Questo lo offre la casa. Allora... Posto di blocco! Ehi, ehi, ehi! Di qua! Sono in troppola! Fateli a pezzi! Per me! Liberati di questi squilibrati se vuoi che crei un passaggio. Dovevi spostarti! Non arrendetevi! Tirene, crede in voi! Non vedevo l'ora! Ok! Adesso vanno tutti a fuoco! Non temete! Li rivedremo nella grande cripta! Fino ad allora, vendicate i vostri fratelli! Fate a pezzi voi maledetti ladri! Avvicinami all'entrata mentre io apro un varco! Via libera! Continuiamo! Cattivi in vista! E adesso muori! Lilith! Sta per finire la strada! Nei canali di scarico! Ci vediamo! Ah! Nascosti nelle pogne! L'ho sempre detto che fate schifo! E questa è la dimostrazione! Posso fare spazio ma prima dobbiamo liberarci di questi due! Rompiscatole! Non mi ha impegnato nessuno a sparare! Portami più vicino! Apro un varco! Non mi ha impegnato nessuno a sparare! 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 Sì, sì. Via libera! Continuiamo! Ecco la stazione dei treni! Il giusto prezzo della serenità! Guarda! Chi vuole aprirla? Merda! Sono già arrivati! Proprio così, rassa di peti ascellari! I nostri seguaci stanno setacciando la città da prima ancora che arrivaste! Credevate davvero di poterla trovare prima di noi! Non temere il cacciatore! La chiave è nelle nostre mani! Apriremo noi con la crie! Chi vuole incazzare? È uno signore! Ah, vero! Chi uccida? Chi uccida? Gli uccida? Boom! Dunque! No, no, no! Portami più vicino! Apro un varco! Capolinea, stronzi! La stazione a voi non ti dà il benvenuto. Ah, cassa! Lasciati trasportare ogni tuoi soldi. La stazione Apollyon ti accoglie come un vecchio amico. Ehi là, carissimo! Ti trovo bene! Una cassa! Partita! 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 L'ho fatto io! Sono dai loro! Sono dai loro! Non solle le polizioni! Non sollele! Non sollele! Avvalcati! Se avete il coraggio! Stazioni Apollyon, dove industria, trasporti e lusso si incontrano in un fastoso menaccio. Stazione Apollyon, scorreggia in tranquillità nella pace delle nostre nuove mazzole primarie. Stazione Apollyon, ecco sì, impuzza per bene tutto il vagone. Fai splendere il tuo culo con i nostri esperti lustracchiappe. Stazione Apollyon, ecco sì, arrivo al binario 9. Stazione Apollyon, ecco sì. Stazione Apollyon, ecco sì. Sì, che vita! Una piccola notte di treine avrà tutto il gioco. Sì, vabbiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Chiunque sia così pazzo da aprirle, non saranno contenti di vederci. Grazie a tutti! 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 Agente, ha vissuto sulla superficie... Preparati! La creatura che gli eridiani hanno rinchiuso all'interno ha passato gli ultimi millenni a dormire. Non credo che si sveglierà di buon umore. Di là! Quell'arco è l'entrata! Inserisci la chiave in quel piedistallo. Scopriamo il motivo di tutto questo casino. Si comincia! E' la nostra occasione! Riempitelo di buchi! Guarda che fine! Fatto! L'hai danneggiato! Nessuna pietà! Cazzo, è invulnerabile! Quelli non so cosa siano, ma è meglio colpirli! Sì! 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 Occhio! Si sta trasformando! Porca puttana, sta distruggendo tutto È ferito, colpiscilo con tutto ciò che hai Non riesco neanche a scattirlo Farò le cose luminose Cosa cazzo gli sta succedendo? Granata in volo Quell'affare sta facendo un disastro Spero non fosse portate Quell'affare sta facendo un disastro L'hai danneggiato! Nessuno ha pietato! Porca vacca! Visto che roba! Un vero capolavoro di tostaggine Complimenti, davvero Sì cazzo! È stato pazzesco! Ava, ti avevo detto di restare sulla nave Non sei al sicuro qui E perdermi l'apertura di una vera cripta? Guardate che roba Ava, essere un cacciatore della cripta Vuol dire anche non gettarsi a capofitto nel pericolo Sì, certo, assolutamente Entra pure cacciatore della cripta Fai con calma Io devo fare due chiacchiere con la mia apprendista Forza, ripuliamolo per bene Questo posto avrà tipo Cento anni Magari pure duecento Ava, dobbiamo parlare Aha, aha, certo Non è uno scherzo Sì, 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 lo so Lo so bene Non toccare niente No, non credo proprio Cacciatore? Mi senti? Niente panico Sto solo provando un nuovo strumento di trasmissione Che sfrutta i poteri di Lilith L'Eiko non riesce a superare i confini della cripta Per cui devo usare questo Mi chiedo cosa troverai là dentro Un gaggio italieno Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Affascinante! Questa cripta è collegata da un antico ponte energetico a un'altra cripta. Queste coordinate sono quelle di Eden 6! Ottimo lavoro, cacciatore! Ora conosciamo la nostra destinazione. Recupera Maya e la sua piccola peste e torna alla nave. Dovrei essere in grado di romperli. Ava! Cerco soltanto di proteggerti! E come? Mollandomi qui sulla nave? Avevi detto che sarei diventata una cacciatrice! L'avevi promesso! E lo diventerai! Ma quando sarei pronta? Come butta, merda? Ah, Troy! Guarda cosa ci hanno lasciato! Grazie di aver fatto il lavoro sporco. Cazzo, voi svuota cripta e sparate prima di pensare, eh? Continuate così e sarò davvero una dea! Noi due saremo dei. È quello che ho detto. Adesso lasciami fare il mio lavoro. No! Cosa stai facendo? Prendiamo ciò che è nostro. Sai, questi mostri non proteggono il potere del cripte. Sono il potere delle cripte. E ora è tutto mio. Ehi! Ce n'è un po' per il parassita? Andiamocene. Ora. Dovremmo essere lì a farti il culo! Chi è la ragazzina? So chi sei tu, ma lei cosa vuole? Lasciala perdere. Pensa solo a me. Diventerò una sirena! E poi verrà a farmi un culo così a voi stronzi! Diventerai... Pensi davvero che finirà così? Tesoro, tu non uscirai viva da questo posto. Mettila giù! Proprio come... Maya! Ava! No! No! Sii pronta. Pensavo potessi prendere solo due minuti. da me? Suppongo... Da ogni sirena. Andiamo. Abbiamo quello che ci serve. Esatto. No! E anche... Se poi alla fine riesci a diventare una sirena... Maia se n'è andata. Prendi la ragazza e tornate alla nave. Lo dirò io a Lilith. È morta. Maia è morta. Ragazzina, dobbiamo andare. Cacciatori, siamo sul ponte. Mi spiace, cacciatore. Non c'era niente che potessi fare. Grazie di aver salvato Ava. Lilith, non dovresti dire qualcosa? Eh, va bene, faccio io. Conoscevo Maia quando era ancora viva. La preferivo così. Ok, questa mi è uscita male. Comunque, ora non c'è più e non possiamo farci niente. Possiamo solo combattere per onorare al meglio la sua memoria. Se non me ne siete accorti, in guerra si muore. Si muore parecchio. Non chiedermi di parlare al tuo di funerale, Lilith. Non scherzare, Tannis. Io non scherzo mai. So chi sono. Una scienziata geniale e spietata. Anche tu sai chi sei e sai che tutti su questa nave si aspettano che tu dica qualcosa e finché non lo farai non potranno tornare a fare tutte le cose importantissime che servono per mandare avanti questa bagnarola. Maia non era solo una Crimson Rider o una cacciatrice. Era una sorella. Non possiamo perdere di vista la missione. Dobbiamo aprire quelle cripte. Solo così la sua morte sarà servita a qualcosa. Tornate tutti ai vostri posti. Aprire le cripte? Tutto qui il tuo grande discorso! Maia è morta perché vuoi aprire le cripte. Dovremmo dare la caccia a quei Calipso e fargliela pagare. Ecco cosa dovremmo fare! Non è così facile. Maia diceva sempre che un cacciatore della cripta da correre a testa bassa verso il pericolo. Tutte quelle storie su di te e su come hai salvato Pandora e ucciso Jack il bello. Sei o no aquila di fuoco? Io non non so più chi sono. Vedi di capirlo, Lilith! Prima che qualcun altro ci lasci la pelle! Cacciatore, va a vedere come sta, ok? Io comincio a impostare la rotta per Eden 6. Ah, ehi cacciatore! Non c'è molto da dire, vero? Siamo in guerra. In guerra si muore. Quando sarai grande abbastanza ci sbronzeremo come due cucuzze e canteremo le sue imprese fino a perdere la voce. Grazie di aver trovato il tempo per venire a consolarmi. Ecco, era suo. Probabilmente vorrebbe che l'avessi tu. Si stanno preparando al salto verso Eden 6. Dovresti essere lassù. Ho bisogno di stare un po' per conto mio. Cacciatore, meno male, sei qui. Dobbiamo fare rotta verso Eden 6. Non c'è tempo da perdere. Lilith, trasmissione in arrivo! E ora chi è? Ciao, imbeo! Vedo che ho chiamato in un brutto momento. Oh, guardate! Questo mi tirerà sul morale. vero o no? Quanti ricordi! I miei seguaci lo adorano! E sono sempre di più! i poteri di quella sirena morta sono incredibili comunque! Il blocco di fase è comodissimo per portarsi il cibo alla bocca e... hop! Mmm! La vostra amica è morta! Sempre un passo indietro, Ellie! Alla prossima, Christa, cari! Che non è per niente su un pianeta che fa rima con Vedenvei! Ciao! Non credo che a quei due importi qualcosa di niente o di nessuno. È questo che li rende così pericolosi. Tannis dice che la cripta di Prometea era in qualche modo collegata a quella su Eden 6. Se i Calypso vogliono metterci le mani sopra, dovranno passare sui nostri cadaveri. Per fortuna abbiamo un amico in quella zona. Clubtrap, videochiama a Merlock. Ciao! Ciao!